La situazione a Kobane è complicata e per risolverla occorre tempo. Il ministro della difesa statunitense Chuck Hagel ha spiegato che l'offensiva aerea della coalizione ha permesso di fare progressi nel respingere i fondamentalisti islamici, che ormai controllano quasi la metà della città siriana, ma ha anche sottolineato le difficoltà sul terreno. Parlando dal Cile, dove si trova per una visita di sei giorni in Sud America, ha detto stiamo facendo il possibile con i raid aerei per contribuire a respingere i fondamentalisti. Di fatto vi sono stati dei progressi, tuttavia il problema è molto complesso e ribadisco ancora una volta che, come ha anche detto il Presidente Obama, lo sforzo per indebolire e alla fine distruggere i fondamentalisti è uno sforzo a lungo termine. Le forze kurde chiedono di intensificare i raid contro i fondamentalisti e fanno notare come i combattimenti strada per strada rendono più difficile il compito di colpirne le postazioni. Hagel ha poi voluto rassicurare sulla situazione in Iraq e ha spiegato che le forze di sicurezza irachene hanno il pieno controllo di Baghdad.